I laureati in scienze motori impiegati da tempo nella scuola primaria come insegnanti di irrigazione motoria denunciano la grave situazione che stanno vivendo. Da dieci anni in Italia esistono progetti nazionali e regionali che prevedono un tutor sportivo all'interno della scuola primaria. Il tutor sportivo in questione è il laureato in scienze motorie che ha conseguito un titolo accademico ma che spesso al termine di un percorso fatto di sacrifici si trova ad avere contratti di collaborazione sportiva che molte volte non prevedono le tutele minime condizione che si è aggravata nell'ultimo anno a causa del covid-19 per via delle chiusure imposte sia per quanto riguarda i progetti dall'infanzia alla primaria che per quanto riguarda la chiusura dei centri sportivi. Siamo in una situazione veramente difficile, speriamo di poter ripartire al più presto possibile. Stiamo cercando in Regione Abruzzo di far approvare un progetto regionale chiamato Rivivere il Movimento che coinvolge le classi prime, seconde e terze della scuola primaria e stiamo cercando appunto di parlare con tutti i partiti politici che ringraziamo. Ringraziamo il dottor Quaresimale che ci ha ricevuti in Regione e speriamo che insomma questo progetto si attui nel più breve tempo possibile per far ripartire almeno lo sport nella scuola primaria. È importantissimo in questo momento perché i bambini hanno bisogno di movimento. Abbiamo visto gli effetti del covid che purtroppo stanno sortendo degli effetti negativi e quindi speriamo, ci auspichiamo che verrà al più presto attuato il progetto. L'ASD che abbiamo creato, i professionisti delle scienze motorie, ha come obiettivo quello di andare a far lavorare la categoria, quindi i nostri iscritti. Abbiamo creato una rete di enti che si sono associati a noi e abbiamo sotto la nostra rete il Training Lab che è un ente di formazione regionale, il CSI, il CIP, il CONI e tanti enti privati. Un progetto innovativo perché introduce la figura del terapista occupazionale che va in aiuto del laureato in scienze motorie laddove si presenti un caso all'interno di una classe di disabilità grave. Questo progetto mira ad occupare circa 300 laureati in scienze motorie e 8 terapisti occupazionali.